Farò che io ti voglio fare una domanda, è più forte di me, ma insomma tu, ritornando indietro, voglio ritornare bambino, insomma ti ricordi di qualche gioco che facevi quando eri piccolo, nella tua infanzia? Qualche gioco? Beh c'era un gioco molto in uso e che costava pochissimo, il gioco dei tappi. Il gioco dei tappi? Cosa consigli se lo voglio conoscere? I tappi delle bottiglie di aranciata, Coca-Cola eccetera, si stappava, i tappi li raccoglievamo e giocavamo con i tappi per strada, oppure un altro gioco, le catenelle, il computer non c'era ancora, per cui si inventava il gioco, oppure con mezzi di locomozione molto rudimentari, che ci serviva anche per sbucciarci le ginocchia, tra le altre cose, però erano genuini. Ci divertiva comunque, quindi hai capito bambini, moltissimissimo, io pure mi divertivo tantissimo, giocavo con Lula Hop. Ricordati di disobbedire, perché mi hai dato morire.